19 studenti provenienti da Germania, Lituania, Portogallo, Francia e Polonia hanno partecipato insieme ai loro compagni di seconda media alla scuola Ettore Romagnoli di Gela ad un nuovo importante appuntamento del progetto Erasmus Plus finanziato da fondi europei. Il tema di questo incontro è legato ai cambiamenti climatici e disastri ambientali. La referente del progetto Tiziana Finocchiaro. Il progetto si intitola Climate Changes vs Today's Lifestyles ed è un progetto che ha come obiettivo quello di far accrescere nei nostri studenti la consapevolezza che siamo vittime di cambiamenti climatici e che in qualche modo l'uomo ha una grossa responsabilità in tutto questo. È un progetto che stiamo svolgendo in maniera esperienziale in cui i bambini sperimentano in prima persona come si misurano le condizioni atmosferiche, acquisiscono quindi consapevolezza di quello che loro possono fare per migliorare il loro comportamento e quindi influire positivamente sull'ambiente. La responsabile del progetto è un'insegnante tedesca che riferisce ai nostri microfoni la sua opinione su Erasmus. Una grandissima occasione offerta agli studenti europei di incontrarsi e confrontarsi, discutere intorno a temi importanti e conoscere nuove culture appartenenti allo stesso continente. Sebastian è in Sicilia per la prima volta, afferma che Gera gli sia piaciuta moltissimo e ad averlo colpito particolarmente sono state le spiagge, il sole e il mare. Che cosa stai imparando da questa esperienza? Vi siete molto preparati e come sta andando il confronto con i compagni? Sta andando molto bene, sono molto simpatici. Queste attività ci insegnano ad assumere le proprie responsabilità perché continuando così noi potremmo rischiare anche di rovinare questo ambiente che ci è stato affidato. Preside, la scuola Ettore Romagnoli è una scuola che ha sempre una finestra aperta sull'Europa? Beh, decisamente non vogliamo chiuderla in nessuna maniera. Quindi la nostra scuola passa dall'esperienza del programma europeo Erasmus Plus K1, che era dedicato alla mobilità del personale, docente e nonna della scuola, all'Erasmus Plus K2, che è destinato alla mobilità studentesca. Oggi Gela accoglie il secondo meeting, il primo è stato in Polonia, qualche mese fa, a febbraio, di tutti i partecipanti di questo progetto. Naturalmente abbiamo garantito le migliori condizioni per l'accoglienza, per rendere bella agli occhi dei nostri ospiti Gela e la Sicilia e naturalmente anche per creare le migliori condizioni per il lavoro.